Sono tornati a far sentire la loro voce davanti al Palazzo di Giustizia di Rezzo, un anno di lotte e di tormenti. I risparmiatori che hanno perso tutto hanno chiesto un incontro ravvicinato con il Procuratore della Repubblica per avere chiarimenti sulle inchieste in corso. Il Procuratore li ha ricevuti spiegando nel dettaglio l'iter che è stato seguito. L'occasione è stata propizia anche per presentare due nuove iniziative del Comitato Vittime e Salvabanche, contestate le modalità relative alla vendita delle obbligazioni subordinate. Senza quell'emissione delle due obbligazioni subordinate la banca a fine anno sarebbe stata sotto i requisiti minimi di capitale, quindi avrebbe perso la licenza bancaria. Non c'era un'alternativa e dovevano collocare questi due titoli per un importo di 110 milioni. Farlo come? Farlo ai tassi di rendimento effettivi comparati alle altre banche, avrebbero dovuto emettere titoli che rendessero l'8%. A quel punto forse i risparmiatori avrebbero alzato più l'antenna e non le avrebbero comprate. Hanno emesso titoli con un rendimento di 350, pari a titoli di Stato. Questo ha dato sicurezza e non ha fatto percepire il grado di rischio di queste obbligazioni agli risparmiatori. Quindi la banca stessa dice che queste obbligazioni non valevano 100 ma valevano 77. I risparmiatori sono tornati a puntare l'indice anche sui crediti deteriorati venduti pochi giorni prima dell'azzeramento. Oggi abbiamo ribadito che ci sono gli estremi assolutamente per la revocatoria sia fallimentare senza il primo comma sia ordinaria in quanto quella cessione di sofferenze è stata effettuata ben prima del 22 novembre. Quindi c'è anche la revocatoria ordinaria oltre che quella fallimentare del primo comma. Alla vigilia la rabbia era tanta, l'attenzione è comprensibile, la pazienza al momento resta l'unica arma nella speranza che possa essere data giustizia. Il procuratore ci ha fatto capire che è già da tempo che stanno lavorando anche a questo aspetto e quindi insomma siamo felici di poter aver lavorato con lui insomma oggi.